Hi, benvenuti alla nostra nuova lezione d'inglese. L'argomento della lezione di oggi è holidays. Oggi arricchiamo il lessico con le parole che riguardano le vacanze. Vediamone alcune. Types of holidays, tipi di vacanze. For example, we can go to adventure holiday, avventura. Beach holiday, vacanza al mare. Camping holiday, campeggio. Cruise, crociera. Mountain holiday, uscita in bicicletta. Safari, un safari. Sightseeing tour. Ciro turistico per monumenti. Quando si viaggia, ci si può fermare in diversi posti che in inglese si chiamano accommodation. For example, bed and breakfast. Tent, cioè la tenda. Caravan, il camper o la roulotte. Hotel, albergo. Come può essere una vacanza? Fantastic, fantastica. Excellent, eccellente. Great, eccezionale. Interesting, interessante. Lovely, piacevole. Wonderful, meravigliosa. Awful, tremendo. Disappointing, deludente. Terrible, terribile. Adesso che conosciamo le parole adatte, possiamo descrivere la vacanza più bella, e anche la peggiore, perché no, della nostra vita. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Alla prossima. Bye! Ciao a tutti. 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 Barani, ciao a tutti. Grazie.